Ma che succede? Che succede qua? Buongiorno, buon'anno America! Buon'anno Luca! Che fate qua? Ci siamo quasi, Paolo! Quasi? No, ci siete già qua, vi vedo? Ci siete già, qua siete. Ma siamo pronti, Paolo. Che state preparando oggi? Oggi prepariamo Serafina, sempre Serafina, pranzo, cena, colazione... Sempre io, 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 io... Oggi dove va la Serafina? Che comina Serafina oggi? dal commissario ai 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 che ha combinato stavolta ha rischiato di far arrestare gina ha combinato un po con gina cercate di avere pazienza sto perdendo la demenza sevile ma vanno a pigliare facetemi nascere facetemi nascere e levateli in mezzo fammi nascere levati chissà a forza di trenare fuori provare provare come angelo provare 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 prova c'è chi si gira ciao 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 ci sappiamo il commissario con la sua segretaria non è carissimo arrestate tutti i gini che vogliate pura gina pura mia se se non ti secondo me è ricchi pura gina c'è l'apertura delle piscine non ti secondo me è ricchi e se mi spiega nessuno a tia a mia a portare un piattino di cose luce sarà fatto e a lei signor io eeeh ma per me lo stesso anche per me lo stesso faccio subito faccio subito dobbia tenere cose luce per niente a chi se c'è l'aria ma stavo pensando chi se era fina pillica a noi era mica non si chiamava catarina pillica come sua nanna ora chi fece cangiare niente eeeh saggio pillico chi pillico meno eeeh meno e poi chissà giugna catarina catarina se ha dato un po' ma tu non entiende proprio nada città di beberese lei sta facendo arrabbiare ah voi sono lei cazzate uno due eeeh I VI erchè ferma ferma ma questa cosa fermaяз ci pensavo ci pensavo ci pensavo ferma è questa cosa e fammi usci lo sentiste chi c'è chi c'è chi c'è lo cercaste d'unne non c'è un c'è un c'è un c'è e chi c'è sciuciulè 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 ma il re ma ha visto il papà Rocco Rocco è meglio che lo va a cerco va devi il re a cominciare e mamma è una sostanza vai a birre Rocco ma lì ma tu suggerai che hai perso lo senno a mia o mi pare tanto giusta di testa aspetta calmati tu che prima di te c'era mia pace aspetta aspetta mia pace vuole fare rivisciare mia moglie mettete il docco che mia pace c'è prima oh oh ma che è tutto sto macello calma calma tutte che ora facciamo rivisciare a tutte ma tutti questi cristiani che buono per una sera fina che vogliono parlare tutti con le morti è lo marito di Rosita si aspetta devi venire ca e sei pronta? ma rimme una cosa tuo marito vuole sapere chi vuole tuo marito che vuelo te lo dico io cosa vuelo io voglio sapere dove e lo tiene tutte le monete che guadagniamo quando vendiamo la casa della sua madre in Spagna dove stas? a quando la prima puntata? a prestissimo prestissimo vi aspettiamo tutti presto 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 vi aspettiamo tutti 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 Grazie.